Se n'è andato con la sua notoria discrezione in silenzio nella struttura di accoglienza per anziani dove da tempo si era ritirato. Michele Megale fu sindaco di Trapani negli anni tra il 1991 e il 1994. Fu il sindaco che accolse Papa Voitila a Trapani nella sua visita pastorale del 1993. Un evento, quello che vide presente a Trapani Papa Giovanni Paolo II, del quale Megale serbava un ricordo caloroso. Monarchico non nascondeva la sua origine e la sua ideologia. Da giovanissimo aveva aderito al Partito Nazionale Monarchico con il quale divenne consigliere comunale negli anni 50. Nel 1957 passò al Partito Liberale con cui è anche assessore comunale. Nel 1968 aderia alla democrazia cristiana e nel dicembre del 1980 da assessore DC venne incriminato dal giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto ma venne assolto. Più volte assessore comunale è eletto sindaco di Trapani il 10 ottobre 1991. Resta consigliere comunale fino al giugno 1994. Nel ruolo di presidente del centro studi Giulio Pastore ha pubblicato diversi opuscoli sulla storia contemporanea trapanese soprattutto ripercorrendo la storia della politica cittadina e provinciale. I funerali si terranno domani mattina ma oggi pomeriggio il feretro dell'ex sindaco Megale sarà portato nella sala del commiato dell'agenzia funebro Chipinti in via Virgilio a Trapani dove sarà allestita la camera ardente in modo da rendergli l'omaggio e gli onori che merita. A dare la notizia della sua scomparsa è stato stamattina l'assessore comunale di Trapani Fabio Bongiovanni che era molto legato all'ex sindaco e per il quale fu uno dei più intimi amici. Quasi come un familiare infatti Bongiovanni si è sempre premurato di organizzare visite e festeggiamenti per l'ex sindaco Michele Megale. Grazie a tutti.